Padrone di casa in questo momento importante della presentazione della mappa idrogeologica dell'Isola d'Ischia un altro aspetto importante riguarda quello della possibile redazione di un piano di evacuazione o di gestione più consapevole dell'emergenza dell'Isola d'Ischia, questo da primo cittadino, quanto le fa piacere avere questo nuovo strumento? Questo è un momento importante, è un appuntamento con la storia, non vorrei apparire particolarmente ottimista ma registro che Ischia non è stata mai in possesso di tutti questi dati, di tutte queste notizie, di tutti questi studi effettuati dai centri di ricerca, dall'università, dagli scienziati, dal mondo scientifico che sono nati dopo i tristi eventi che abbiamo vissuto. Sarebbe da miopi politicamente non cogliere questa occasione e non approfondire e approfittare del momento per una seria programmazione, per una ricostruzione che vada a appoggiarsi sulla sicurezza che è fondamentale e soprattutto sulla possibilità di far passare il messaggio al mondo intero che a Ischia si viene in vacanza e si viene perché ci si sta in sicurezza. Questo a noi è un altro elemento che non stiamo sottolineando abbastanza, io credo. Gli studi servono alla base per la realizzazione dei progetti, delle opere e delle azioni incisive già messe in cantiere e questa attiene alla parte tecnica, è supportata anche dalla BEI e quindi ciò significa che per la prima volta si ha anche più rispetto per il danaro pubblico perché questi studi prevedono anche la reazione e la resilienza di queste opere da qui a 50 anni, cosa che non si era mai fatto prima, nel senso che i cambiamenti climatici impongono uno studio preventivo prima della realizzazione. E siccome si tratta di danari pubblici io penso che questo si possa configurare all'interno di un maggiore rispetto per il danaro pubblico, tra virgolette. Dall'altra parte ci dà anche la possibilità appunto di prevedere, di poter dire che Ischia si viene in sicurezza e quindi realizzare quelle opere che questa sicurezza poi di fatto la determinano perché adesso si tratta di mettere il commissario Legnini nella condizione di realizzare il suo piano già approvato dal governo che ha previsto le tre fasi che già conoscete, quella di sommorgenza, quella di urgenza e quelle più strutturali magari dilatati in un arco temporale più lungo. Si parte da Casamicciola come è giusto che sia ma chiaramente questi piani, questi interventi hanno ad oggetto tutta l'isola e quindi al di là delle risorse cominciamo a montare i progetti, ad avere le norme per realizzarle. Voglio lasciarle con una domanda, una mezza provocazione. È convinto che i suoi colleghi, sindaci, la parte politica abbiamo capito che è necessaria l'attenzione ma secondo lei c'è da parte dei suoi colleghi l'attenzione a questa tematica? Ma non può non esserci perché i miei colleghi non sono così sprovveduti da non comprendere che questo è il momento storico per l'Isola Dischia. Questo è il momento che impone unità, impone condivisione, impone soprattutto visione ma impone anche la possibilità di saper cogliere questo momento storico e quindi questa sensibilità politica. Io non ricordo nel mio impegno politico una partecipazione così leale di enti come la regione, come la città metropolitana, come la sovrintendenza, come il governo tutti allo stesso tavolo, a remare tutti nella stessa direzione. Saremmo proprio miopi se ognuno di noi poi rimasse in una direzione diversa.